grappoli colonne piramidi ecco tutte le forme che questa enorme colonia di coccinelli assume in questo video ad alta definizione video girato dal videomaker gary yost che ha spinto la telecamera dentro le tane di questi insetti le riprese spiano da vicino il comportamento di questi animaletti durante il primo calore della primavera dopo un inverno trascorso appollaiati gli uni sugli altri per evitare il congelamento regalandoci così un punto di vista a dir poco spettacolare iscriviti al canale